questi sono i miei due vecchi power bank dell'hanker 9000 e 5000 ma ormai mi stavano dando troppi problemi con il mio smartphone che si sorriscaldava e veramente era impossibile la calica troppo lenta ormai hanno già 7-8 anni questi qui li ho sostituiti con questo power bank 261 della leeway vediamo come ho fatto ok trova la sorpresa il tesserino della inio scala marcona ok welcome quid anche in lingua italiana ok ecco qui molto compatto ecco la seconda cosa che si autoscioglie compatto ma anche un po' plasticoso in questo pezzo forse un po' più leggero di questo questo è un small size bello bello lo vado a caricare e lo provo costa solo 25 euro su amazon il link in descrizione poi è molto carina questa linguetta che permette di posizionare un smartphone così e guardarsi ad esempio il proprio film senza questo qui è un'ottima cosa perché spesso quando si guardano i film da letto per esempio si avete la possibilità di tenere in mano sempre le smartphone oppure di tenerli in posizione improponibile questa è una grande idea questo è un secondo telefono ovviamente sto facendo il video con il mio vivo ok direi un buon prodotto lo metto in carica preferisco metterlo in carica lenta per sicurezza stavo per dire che l'avevo usato il sacchettino del mio vecchio hunker ma a sorpresa mi ho presentato un suo sacchettino personalizzato proprio uguale ed entico a quello degli hunker in stile con la scritta inio bello docce ottimo prima ricarica 50 per centri sembra sia ricarica tutto questo ci sto rassicco a lezione